Brunetto Salvarani è definito il teologo del dialogo, quindi quale persona è così, è così membro anche del Comitato Scientifico di Festival Francescano. Cosa ne pensa di questo festival che finalmente vede realizzato dopo tanto tempo di lavoro anche del Comitato Scientifico? Sì, penso intanto che i patti con Frate Sole funzionano perché giornate straordinariamente belle anche sul piano atmosferico non sono scontate in questa stagione. No, penso che sia un segnale il fatto di mettere il dialogo al cuore del dibattito ecclesiale ma anche sociale, culturale e politico. Ci sono stati anni in cui non si poteva farlo per tanti motivi, era più difficile farlo. Oggi si è ricominciato, abbiamo appena iniziato il cammino però, perché questo è da tradurre nel concreto delle nostre chiese, delle nostre città, dei nostri quartieri, in particolare ad esempio il documento di Abu Dhabi di cui pure parleremo oggi pomeriggio. È un documento bello, straordinario, si parla di fratellanza e di cittadinanza. Bene, ora fratellanza e cittadinanza vanno vissute e discusse anche a livello locale, a livello di base. Questo è il compito di oggi, non è facile ma ce la metteremo tutta. Grazie. Grazie, pace e bene.